Anche ieri il bollettino dell'unità di crisi regionale tratteggiava una situazione epidemiologica nella nostra regione poco veritiera. Risentendo dell'eseguità dei tamponi processati, si abbassa la reale soia dei positivi attivi. I numeri parlano di 2.716 nuovi contagiati a fronte di 14.290 tamponi, 1.503 in meno rispetto all'altro ieri e ben 11.516 in meno rispetto al 7 novembre quando ci fu il picco di 4.601 nuovi positivi al covid. Quello che deve fare riflettere è però che gli asintomatici, nonostante i pochi test eseguiti, restano sopra i 400, ieri 412, mentre gli asintomatici si attestavano a 2.304. Decedute 18 persone, guarite invece 790. Insomma, il calo dei numeri dei positivi non indica l'inversione del trend, considerando anche che il rapporto tra tamponi e positivi, resta elevato, sopra il 19%. Il problema della carenza di medici ed infermieri resta tutto, così come la sofferenza di diversi ospedali. Anche oggi al Cotugno pazienti nelle auto e in fila nel piazzale in attesa di essere visitati. In alcuni momenti il problema sembra allentarsi, poi si riformano le code. Si aggrava anche il bilancio dei contagi nella RSA Villa del Sole di Torre del Greco. Nelle ultime ore sono saliti a una quarantina ai positivi al tampone anti-covid, molti dei quali anziani ospiti. A peggiorare il quadro già preoccupante, il decesso registrato ieri di uno anziano di 90 anni, risultato infetto alla fine della settimana scorsa.